Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video rivelate Nuove carte melodiosa da un non so un quantitativo di tempo in memore Ed è molto interessante perchè io ricordo quel mazzo con molto piacere in realtà Perchè mi piaceva molto come giocava, niente di eccezionale però faceva le sue cose Quindi sono molto curioso di vedere cosa fanno queste nuove carte Sempre da Legacy of Destruction Non è prima di iniziare come sempre ragazzi io mi invito a iscrivervi al nostro canale Sempre aggiornati ricordandovi che l'iscrizione ci da una mano incredibile E io vi ringrazio detto questo andiamo a vedere Allora utilizzano i pendolo che in realtà non è neanche troppo sbagliato Perchè col fatto che se evocano tutte specialmente Cioè sono più forti se le evocano specialmente e aldano fanno fusione Ti proteggono, potenziano gli attacchi Tutte quando vengono evocate specialmente Io direi che non è per nulla male il fatto che siano pendolo questa volta Allora vediamo Refrain, The Melodious Songstress Ah ma non è neanche troppo malaccio come l'artwork Effetto pendolo scala 1 Possiamo targettare un mostro melodiosa Fusione controlliamo Mandare un mostro d'archetipo dal deck al cimitero Se lo facciamo il mostro targettato Guadagna attacco pari al livello del mostro mandato per 200 Fino alla fine di questo turno E ok Prima secondo effetto una volta per turno Se questa carta viene evocata possiamo aggiungere una carta mostro melodiosa Dal deck alla mano di eccezione di lei Se uno o più mostri fusione vengono evocati Specialmente sempre ad archetipo sul terreno Mentre questa carta è scoperta nel nostro extra deck Possiamo piazzarla nella zona a pendolo Ok col fatto che ti immagini le carte ci sta Perché ci sono anche carte che te li fanno rievocare O te li fanno raggiungere la mano Ok il primo effetto è molto buono Perché comunque ti fa fare daddino E ci sta Poi col fatto che puoi fare comunque scalapendolo Ti aiuta un pochino Bisogna vedere se c'è qualcosa che ti aiuti A non farti buttare giù il mazzo Quando ti negano il link Cupletne Melodious Songstress Eccoci qua Perché il link ti evoca due dal mazzo Secondo effetto una volta per turno pendolo Non possiamo evocare specialmente Cioè non possiamo evocare pendolo Ad eccezione di mostri luce Questo effetto non può essere negato Ah ma non è che grazie a questi Ci confermano che sarà l'anno luce? Eh? Mettiamo hype a caso A caso non c'è tra Confermano il pacche luce? Pa! Chi lo sa? Non si sa Se non controlliamo mostri scoperti Melodiosa possiamo aggiungere Ma c'è troppo La deck e la mano Molto forte Perché ti aggiunge anche Ti cala il mostro dal mazzo Di quello che ti serve Ok questo è buono Spendolo scala 9 Giustamente Molto buono Molto buono Metti questo Fai subito addino Bene Bene E se non lo fai L'oppo ti spreca un ht Va bene Ci piace Effetti Mostro Se questa carta viene aggiunta Alla mano D'eccezione pescandola Dalla pescata normale Possiamo rivelarla Ed evocare specialmente Un mostro Develo 4 Melodiosa Dalla mano O cimitero Vedi Molto bene Si va tutto a triggerare Mandi un mostro Al cimitero Ti addi questa qui In un modo Nell'altro E Te Te la riveli E poi Prendi roba Ok Se uno Più mostri Melodiosa Vengono evocati specialmente Ovviamente Fusione Sul terreno Mi trovo questa carta E scoperta Nella zona Exerdeck E la posizioniamo Nella nostra zona Pendolo E ok Abbiamo Spectacular Back De Melodious Maestra Bacia De Melodious Maestra E giustamente Perché c'hanno Fortissimo Due mostri Melodiosa Stavo pensando Se Ci vuole buttare Una super Poli In mezzo Se questa carta Vengono evocata Specialmente Possiamo evocare Specialmente Un Melodiosa Dal deck E Nostri Melodiosa Nostri Mostri Fusione Melodiosa Non possono Cioè Gli effetti Attivati Nel nostri Mostri Fusione Melodiosa Non possono essere Negati Mentre controlliamo Questa carta Evocata Tramite Fusione Taci Taci Se questa carta Vengono andata Al cimitero Possiamo targettare Un mostro Archetipo Nel graveyard Guardare le eccezioni Delle Ed evocarlo Specialmente Posizione Di difesa Beh Non è per nulla male Già che ti fa evocare Dal mazzo E comunque Ti blocca Il fatto che L'opo Di nega Gli effetti Allora Nome infinito Flowing Flowing alla fine del turno quindi non è che te la vai a bandire per sempre ma in più fai un'interruzione dopo che è enorme gli vai a togliere tutte le carte scoperte potenzialmente già mamma mia tra l'altro no ok dice mostri se questa carta scoperta è evocata tramite fusione è sotto il controllo e provvederà lascia il terreno a causa dell'effetto nel caso dell'avversario possiamo evocare specialmente un melodius da lec o ex da lec ad eccezione di lec eh no non è per niente male non è per niente male perché si fa un'interruzione veramente enorme con melodius concerto evocchiamo tramite fusione mostro fata utilità nel mostro della mano terreno e nella zona pendolo come materiale quindi fondamentalmente ti puoi sfruttare gli effetti pendolo fare la fusione quelli vanno nell'extra deck che è il mostro viene evocato e quelli si rimettono nella zona pendolo quindi fa una fusione a gratis fondamentalmente se il mio ragionamento è giusto allora se uno più mostri melodius fusione vengono a dare a cimentare mentre questa carta è lì anche donata il damage lo piazziamo in fondo il mazzo e peschiamo uno beh 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 ti dirò ti dirò non è per niente male non è per niente male questa fusione allora secondo me serve qualcosa in più ancora assolutamente serve qualcosa in più però già col fatto che ti permette di evocare specialmente a caso è buono in modo che non devi fare mille mila giri mortali per riuscire a farti un'evocazione special senza il rischio che magari ti negano qualcosa con in permanenza quindi in quel frangente puoi stare un po' più tranquillo lei è molto forte perché ti fa aggiungere una carta a gratis se non controlliamo melodius quindi mostri quindi è buono perché ti aggiungi una magia trappola quello che ti pare dal deck alla mano ti puoi prendere anche questa fusione e te la fai subito lei è molto buona perché comunque ti permette di evocare cioè ti permette di rimbalzare roba in mano è lei che ti permette di evocare non ti far negare gli effetti attivati dei mostri di fusione quindi è molto interessante due fusioni molto interessanti lei che si combacia bene con appunto questa cartina qui in modo che il melodius che vai a mandarti dal deck al cimitero può essere sfruttato meglio quindi molto buono lei vabbè forte perché ti aggiunge una melodius quindi è veramente interessante tra l'altro se tuttiamo che questa qui e poi fai la fusione dovresti riposizionartela nella zona extra quindi puoi sfruttare l'effetto di evocarla per poi andartela a togliere se è sempre giusto il mio ragionamento se non è giusto ditemelo ovviamente nei commenti perché sapete che io sbaglio però la sezione commenti è fatta apposta quindi può essere molto interessante secondo me manca ancora qualcosina ci poteva essere qualcosina in più perché alla fine sono tre carte di main due di extra che non è che potenziano abbastanza il mazzo ma non è che te lo mandano a far diventare molto molto più forte di quello che era però però è già un power up di di livello non è per nulla male non è scontata come cosa anche perché ripeto il fatto che ti vuoi giocare pendolo e ti fanno fare tutte le vocazioni speciali aiuta aiuta detto questo ragazzi comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente se avete già in mente qualche tattica qualche cos'altro legacy of destruction ha portato tre diciamo due archetipi è un supporto nuovo molto interessante ci sarà anche la lista del gold sarcofagus a breve nel canale quindi un mazzo molto interessante poi per i blistil che gli hanno cambiato il nome vedremo quando fare la profile e niente ragazzi detto questo appunto fatemi sapere voi cosa pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti di e un saluto a tutti